Il gol arriva a poco dalla fine ma è stato costruito dal primo minuto come la Juve costruisce tutte le sue partite tenendo palla con pazienza sviluppando gioco poi un Cesena che era anche stanco lascia uno spiraglio e Borriello ne approfitta Dal cross di Del Piero la sponda di Vucinic in posizione regolare sul pallone va Borriello che al volo e in acrobazia in assoluto ha sicuramente i suoi colpi migliori trova l'angolino anche con una deviazione Marco Borriello fa 1-0 delirio totale adesso al Manuzzi perché Borriello ha sbloccato se stesso ma soprattutto ha sbloccato la Juve che avanti 1-0 e in questo momento ha più 5 sul Milan a 4 giornate dalla fine